Negli ultimi giorni, è circolata online la notizia della presunta rottura tra Angela Nasti, sorella di Chiara ed ex tronista di Uomini e Donne, e Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta e della Nazionale Italiana. Alcuni utenti hanno notato che i due avevano rimosso le foto insieme dai rispettivi profili social, alimentando le voci di una crisi. La realtà, però, è diversa. La coppia, che aveva ufficializzato la loro relazione lo scorso luglio, ha smentito fermamente i rumors pubblicando una nuova foto su Instagram. Nell'immagine, condivisa inizialmente dal calciatore e poi dall'influencer, i due appaiono sorridenti e sereni. Nessuna crisi, dunque, o se c'è stata, sembra ormai superata. Prima di iniziare la storia con Scamacca, Angela Nasti ha avuto relazioni con altre figure del mondo del calcio, tra cui Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna. Scamacca, invece, aveva recentemente concluso una relazione con Flaminia Appolloni, una 36enne romana con cui era legato dal 2021. La loro rottura è arrivata inaspettatamente. A fine maggio, Flaminia gli aveva dedicato un sentito post su Instagram in occasione della finale di Europa League, vinta dall'Atalanta, in cui lo descriveva con parole di grande affetto e ammirazione. Poco più di un mese dopo, Scamacca ha reso pubblica la sua nuova relazione con Angela Nasti.